Probabilmente, io penso che quella donna lì, bellissima, si sia sentita accolta da questo maestro in questo modo, strepitoso, bravissimo, in cui certo gli dice di cambiare condotta, ma senza astio, senza violenza, senza crearti un disastro, no? Quella donna, io penso, ma succede anche nella vita normale, quando tu incontri un vero maestro non fai l'esperienza che respingi, ho incontrato uno, oh che bello, ho incontrato uno, che bello con quello lì, bello sta con quello lì, parlare con quello lì, i cristiani abitano nel mondo ma non so, ora io dico sempre, adesso posso dire il tratto, che se uno mettesse una macchina fotografica all'uscita da messa, un marziano, mettiamo un marziano, che viene sulla terra e dice proviamo a vedere qui, questi qui, cosa fanno? Mette un marziano e dice no, no, questi qui non possono essere, questa linea qui non può essere, non so se chiama, questa linea qui non può essere, escono da messa con il muso appeso, no? Tutti arrabbiati, sempre così, cos'è che cambia? Dice no, no, questo qui fra le varie ipotesi sul mercato, ci sarà, bisogna andare da fare, l'alettrismo magari, bisogna andare da qualche minato, questi qui sono troppo, troppo, non può essere così, non può essere così, questa idea purtroppo, adesso devo dire, molti giovani ce l'hanno, sta attento che Dio ti guarda, è la misera, guarda a me, non vedo quello che c'è da fare, io mi sono appartato con la mia segretaria nel boschetto e lui guarda a me, è la misera, c'è questo senso di oppressione su ogni cosa, o no? Oh mamma mia, un Dio così non può essere, un Dio così non è credibile, è un Dio credibile, uno che più inizia a respirare, ma è bellissima sta cosa, io infatti rimango veramente sorpreso quando a volte parlo con dei ragazzi e dicendo per me è esattamente l'opposto dell'idea che mi indico, ma anche gentile, anche adulta, e quando parlo del cristianesimo ne parlo nell'ordine della castrazione e della rinuncia, per me è esattamente l'opposto, io non so come dire, ma a livello intellettuale non è la mia vita, non parlo mai della mia vita, io dico a livello intellettuale è esattamente l'opposto, il cristianesimo è un'esperienza di liberazione, ed è un'esperienza di incarnazione, dobbiamo mangiare, vivere, godere, essere contenti, baciarci, è l'opposto, e se qualche volta, per alcuni, può essere che per alcuni, in alcuni momenti, ma questo è robio, non è che tu mangi tutti i giorni la lasagna con la ragosta, in alcuni momenti si può anche mangiare la ragosta, si può anche fare il digiuno, ma non ho già letta questa scenetta che faccio sempre, ma è una scenetta, adesso le suole mi eccitano, no, nel senso che mi fa venire in mente delle robe, le suole, no, me lo male, no, come diceva una suola, diceva, ma io sono ancora una donna, no, mi viene in mente, cioè, qua, ripeto, cioè, tu alla fine, io immagino la scena, io me la immagino, la scena che appunto, si, si, si va, si muore, uno va lì, una monaca di clausura, va lì, l'incontra Dio, dice, come va? Dio dice, come va? E dice, va, abbastanza bene, e poi dice, Dio dice, allora, cosa hai fatto? E dice, come l'ho fatto? Non lo sai, io sono andato in clausura, ah, veramente? Dice Dio, adesso lo faccio io, dice, veramente? Dato in clausura? Dice, eh, sì, per te, per me. Scusa, ma, ma chi te l'ha detto? Come me l'hanno detto? Eh, me l'hanno detto, i padri spirituali, no? Siccome non trovavo il fidanzato, allora mi hanno detto che forse Dio mi sta dicendo qualcos'altro, cioè, figuriamoci che bella idea di vocazione, cioè, non trovi il fidanzato, devi andare in clausura, allora dice, io sono di clausura per te, e lui dirà, questo sono sicuro, mi dispiace, ma io, veramente, io non ci pensavo minimamente, perché io voglio, volevo che tu fossi contento, e se forse tu hai scelto di andare in clausura, era perché quella era la tua strada per essere contento, figuriamoci se un padre può volere che un figlio faccia così, faccia cos'altro, io faccio questo esempio proprio terra a terra, cos'è che vuole un padre o una madre, cos'è che vuole un padre? Che il figlio diventi primario? Diventi notario? Ci sono, si chiamano castratori, ma uno dice, cos'è che vuole? Ah, non lo so, non lo so cosa vuole, voglio, io solo so che lui stia bene, che lui stia bene, poi dopo, come lui, bellissimo, povere suore, mi ascolta, ma noi ci hanno detto che noi, e tu avevi bisogno di 3500 spose di Cristo, sapete questa storia qua? Ogni anno 3500 spose di Cristo, a parte che, diciamo, siete sbagliati, d'altra parte, se c'è un pettegolezzo che gira nel mondo, è su Dio, no? Il pettegolezzo è su Dio, in questo caso è interessante che Gesù venga giustamente interpretato come la parola di Dio, Gesù è quello che mette fine al pettegolezzo su Dio, bello, è colui che mette fine ai pettegolezzi su Dio. Poi dice, infatti, qui siamo al settimo, sta affrontando Dio è verbo. Ma cavolo, pazzesco, perché dice, non già mandando come qualcuno potrebbe pensare, qualche servo, o angelo, o principe, o uno di coloro che sono preposti alle cose terribili. Spiego, quando si dice, devo dire che c'è anche nella liturgia sta cosa qua, ma sbagliamo però, adesso non voglio dire, quando si dice che Gesù è mediatore, Gesù non è il mediatore, Gesù non è il mediatore tra l'uomo e Dio, ma siamo matti. Gesù è Dio e l'uomo, non è il mediatore. Il mediatore è quello dell'uomo, mi seguite? È chiaro il mediatore dell'uomo? Cioè l'uomo è un problema, ma dal mediatore, ci siamo? Il mediatore va lì e dice, voi dovete fare così, poi il mediatore cosa fa? Se ne torna a casa, mi seguite? Ma non è così, non è un mediatore, si è incarnato. E io penso che sia stata una mossa enorme in questo istante. Perché qual è l'obiezione che l'uomo ha sempre rivolto a Dio? Qual è l'obiezione? L'obiezione seria, che l'uomo ha rivolto a Dio, qual è? Tu non puoi capire. Tu non puoi capire. Tu puoi essere Dio, ma non puoi capire che cos'è quando tuo figlio muore sulla spiaggia. Mi seguite? La grande obiezione. Tu non puoi capire. Io mi trovo qui in questa situazione, senza lavoro, con la moglie qui, il marito di... con un figlio che è depresso in casa, o alcolizzato. Tu non puoi capire. La giusta obiezione dell'uomo, Gioca, tu non puoi capire. E questa obiezione è una grande obiezione. ma Dio... ma questo è un punto enorme del cristianesimo, ma questa è una roba commovente del cristianesimo, e magari è tutta una balla, ma questo punto è il vertice. Dio non ha mandato un mediatore, non ha mandato... l'ho fatto prima, non ha mandato un profeta, non ha mandato un maestro che spiega. Se avesse fatto così non sarebbe stato credibile, non so se chiama, perché è sempre dall'esterno. Ora noi possiamo non credere a Dio, ma non possiamo più fare l'obiezione, tu non puoi capire, non so se chiama, perché è morto, in croce. Possiamo non crederci, ma l'obiezione, tu non puoi capire, non è più relisse a questa cosa. Che ritorna è la questione dell'incarnazione, che è tutto il centro di questa lettera, certo, questo è il punto. Non già mandando, come qualcuno potrebbe pensare, qualche suo servo o angelo o principe. Non è un angelo Gesù. Non è un angelo. Ma questo è quello che lo rende pazzesco, perché vuol dire che quando io sono triste o innamorato, lui mi può capire, perché lui si sarà innamorato, sicuramente, e avrà avuto mal di pancia, e avrà avuto qualche bel dubbio, e avrà avuto qualche bel dubbio, e avrà avuto qualche bella incertezza, perché sennò che l'uomo sarebbe stato. Noi non ci crediamo. Io faccio fatica a credere che lui è veramente uomo. Veramente uomo. Non perfetto. È un'eresia, eh. Non si è preso momentaneamente la carne, come un abito. Non ha fatto così. È fino in fondo. È bellissimo. E vuol dire che quindi ha a che fare con il tuo prurito, capito? Col prurito. Sotto la scena. c'è bellissimo. O un angelo, o un principe, o uno di coloro che sono preposti alle cose terribili, ma mandando lo stesso artefice fattore di tutte le cose, per cui creò i cieli e chiuse il mare, e le sue sponde. E qui poi c'è il punto pazzesco. Perché questo è, questa è la seconda cosa. La prima cosa in questo tema dell'incarnazione impressionante, incomprensibile, difficilissima. Perché dire incarnazione vuol dire che Dio ha a che fare con la mia pasta e fagioli. Io lo continuo a dire. E capite che è una notizia enorme. Perché se Dio ha a che fare con la mia pasta e fagioli, la mia pasta e fagioli ha a che fare con Dio. Non so se è chiaro. È chiaro? E quindi io quando faccio la pasta e fagioli, non lo so, ma ho a che fare con Dio. Quando bacio, ho a che fare con Dio. Quando studio, che è l'unico motivo per cui vi dico che si bisogna studiare bene. Ma perché devi studiare bene? Ma perché devi studiare bene? Per prendere tre. Ma perché devi baciare bene? Devi preparare bene la pasta? Ma per questa cosa, tu non ci pensi. Noi non ci pensiamo. Ma mentre fai la pasta, se Lui si è incarnato, se Lui si è incarnato, mentre fai la pasta, è a che fare con Dio. Con il mistero della vita, di tutto quello che mi... mentre dormi, mentre tiravi i piedi, cioè... C'è impressionante, incredibile, non c'è l'unico motivo. E allora dice, la seconda parte però è questa. Forse, come qualcuno potrebbe pensare, siamo sempre a 7-3. Lo inviò per la tirannide, il timore, la prostrazione? Non c'è, ma nell'amitezza e nella bontà. Fai impressionante. Come un re manda suo figlio. Lo inviò come Dio e come uomo per gli uomini. Lo mandò come chi salva, per persuadere e non per fare violenza. A Dio non si addice la violenza, ma è meravigliosa. Cioè, questa cosa più è meravigliosa. Cioè, questa cosa più è meravigliosa. Questa cosa più è meravigliosa. Cioè, non solo nell'incarnazione. È il problema che tutto quello che noi siamo, anche le cose minime, la pasta e fagioli, il bacio, sono tutti... Ma addirittura questa venuta non è per il giudizio. Non è per un giudizio. Ci vuole bene. È incredibile. Ci vuole bene. È impressionante. Perché dico che è impressionante? Perché in tutte le storie delle religioni, l'uomo se ne è fatta sotto con il rapporto con Dio, no? È certo. Tu hai paura di Dio. Io infatti sostengo, e l'ho anche scritto, giusto? Che la religione, la religione è un sistema di protezione da Dio. Certo. La religione è un grande sistema di protezione da Dio. Perché Dio te la fa fare sotto. Dio è pericoloso. Così come l'uomo lo pensa. E certo. C'è il terremoto, c'è l'uragano, e viene la pestilenza, no? Ci siamo? Dio è una roba che tu te la fai sotto, no? E l'uomo infatti ha inventato la religione ad un tempo, sia per stare in rapporto con lui, sia anche per dire per favore. Se puoi stare... Che è King Kong, no? Ricordate King Kong? Il film. King Kong. Eh? No, i ragazzi non l'hanno visto. King Kong, l'avete visto? Vedi che lei dice di no. È fondamentale King Kong. Quando King Kong il bestione periodicamente viene a bussare alla porta dell'umano, no? Ci siamo? Bellissimo. Il bestione periodicamente viene a bussare alla porta dell'umano. E cosa fanno? Cosa fanno col bestione? Giustamente. Gli danno una vergine così si calma, o no? È bellissimo. Per un anno stiamo a posto, no? Col bestione. E infatti l'uomo ha inventato i sacrifici umani, o no? Ha iniziato a sbozzare. Sperando di dire, ma... Questo Dio così pericoloso, almeno gli do da bere. Gli do da bere il sangue. Così si calma, o no? Ma capite cosa ha fatto l'uomo? Che ha inventato il sacrificio umano. E perché l'ha inventato? Perché è scemo? No, perché se la fa sotto l'uomo. E allora dice, con un Dio così pericoloso, io lo devo tenere calmo, no? E come lo tengo calmo? Con la cosa più preziosa che ho. E cos'è la cosa più preziosa che ho? La vita. E cos'è la cosa più preziosa nella vita? La vita del figlio. Agamembe. Che deve vincere la guerra in Troia e sacrifica la figlia, giusto? Perché così gli dèi sono dalla sua parte. Dio è un tipaggio. Gesù dice no. Dice che non è vero. Che Dio ti bacio. È la grande pettegolezza su Dio. Ma non è un pettegolezza nato a caso. Ci sono le guerre, le pestilenze, i terremoti. Muoio di figli. Le donne sono stelle. Non ho fatto nessun male e le cose mi vanno male. Dio non è credibile. È un tipaggio. È un tipaggio. Il cristianesimo dice di no. Cioè l'idea che dice, che porta nell'incarnazione di Gesù è esattamente questa. nell'amittenza e nella bontà come un re manda suo figlio lo inviò come Dio e come uomo per gli uomini come uomo per gli uomini lo mandò come chi salva a Dio non si addice la violenza. Lo mandò per chiamare non per perseguitare. Lo mandò per amore non per ridicare. No, lo dico questo perché ancora oggi l'obiezione è questa. È così pesante questo Dio. Mi chiede sempre di rinunciare e la Chiesa ha fatto questo anche come struttura di potere. Ha esercitato il suo potere attraverso il senso di corpo. e dicendo così sta attento di qui sta attento di là ci siamo ma per forza per noi è incredibile che Dio ci voglia bene come quando siamo bambini e ragazzi è incredibile che nostra madre ci voglia far studiare geografia perché ci vuole bene ci vuole far studiare geografia perché ci vuole bene. la cosa più incredibile nella vita è l'essere a parte è per questo che la samaritana profetizza è incredibile che uno mi voglia bene è incredibile che uno mi voglia bene tant'è vero che noi diciamo sì quando ero giovane sì ma adesso no è incredibile che uno mi voglia bene è impressionante è incredibile veramente incredibile appunto e invece è questo che dice Gesù potreste che su una balla eh questo non è per me non è il contenuto è questo poi dice lo mandò per amore non per giudicare lo manderà a giudicare e chi potrà sostenere la sua presenza questo è interessante perché chi potrà sostenere la sua presenza vuol dire chi potrà sostenere questa offerta d'amore mi seguite? non so se è chiaro eh perché se mi è chiaro cioè se mi dice che io ho sbagliato io lo sostengo e se mi dice io ti amo non lo sostengo non so se è chiaro se mi dice qua tu hai sbagliato tu hai fatto io dico vabbè io già non penso eh sì tu dici così ma io ho fatto così lo dicevo ma nel momento appunto ripeto io dico così sempre dico così dico sempre così che in fondo noi continuiamo a dire una cosa noi continuiamo a dire una cosa noi continuiamo a dire che non c'è ciò che chiediamo nella vita è essere amati no? noi continuiamo a dire così le persone cosa cosa è il bisogno di essere amato noi diciamo in realtà il più delle volte noi vogliamo essere posseduti non amati quello chiediamo è di essere posseduti non di essere amati è il momento in cui uno ti ama che veramente tu sbagli è incredibile essere amati è veramente incredibile essere posseduti invece è bello posseduto e qui dopo dice va bene lo manderà a giudicare chi potrà sostenere la sua presenza non vedi i cristiani che gettati alle fiere perché rimedono il Signore non si lasciano giuncere e qui c'è la samarità che uno in croce non maledica il Padre è incredibile e questo non pare opera dell'uomo ma è potenza di Dio prova della sua presenza non so se è chiaro non so se è chiaro di fronte a un uomo che in quella condizione non maledice il Padre uno dice beh allora forse non so se è chiaro eh non so se è chiaro in quella situazione beh forse bellissimo questo cioè questo non pare opera dell'uomo cioè talmente incredibile dice non pare opera dell'uomo ecco no io ho finito ma volevo dire esattamente non so se sono riuscito voi magari adesso se volete possiamo scambiare due parole come volete voi non so se sono riuscito che esattamente lo spostamento non parla di Dio questa cosa parla degli uomini parla dei cristiani del modo di vivere del modo di vivere e cerca di fare queste leggi se fosse se noi fossimo così saremmo forse cioè no cioè appunto ma io penso che un povero noi siamo così io non sono così pessimista io credo che questa esperienza duri da duemila anni perché ci sono stati ci sono uomini così se no non sarebbe durata no duri da duemila anni perché ci sono uomini dieti ci sono uomini in letizia magari sono nel ciapas nelle favelas ma sono ancora in grado di bere un bicchiere di vino ed essere dieti o no si è in clausura essere contenti non è vero lontanante grazie 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 grazie